Introduzione per chi ha il coraggio di sfidare Golia. Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla a lui. Firmato Ezra Pound. Chi scrive rischia fino a 15 anni di carcere per sequestro di persona plurimo e rifiuto di atti d'ufficio per aver difeso i confini bloccando gli sbarchi. Ma soprattutto guida un partito, la Lega, che da anni è sottoposto a un linciaggio mediatico giudiziario che ha pochi precedenti in Italia e in Occidente. E tra i pochi sfortunati a cui mi riferisco c'è certamente quell'amico e quel genio di Silvio Berlusconi. Mai avrei pensato da ragazzino, quando ai tempi del liceo tornavo a casa tardi in bici dopo le riunioni nelle sedi della Lega, di rischiare anni di galera per aver difeso un'idea mantenendo una promessa fatta. Per me la parola è sacra, sono fatto così, e se devo mettere in gioco me stesso e fin anche la mia libertà per mantenerla, lo faccio. Non scaricando mai responsabilità o colpe, anche se inesistenti, su altri, sui collaboratori, su chi mi sta vicino. Mai. Non sopporto quelli che armiamoci e partite. La vita è troppo breve e troppo bella per farsela scivolare addosso per paura di sbagliare o per il dubbio di non farcela. Certo, questo lo dico oggi, a 51 anni, ripensando con un sorriso al Matteo più giovane degli anni 80-90, che se la cavava a scuola, un solo esame a settembre in 5 anni di classico, guarda caso matematica, quanto imbranato nei rapporti con le ragazze, tanto che il primo bacio e la prima storia seria arrivano solo ai tempi dell'università. Prima mi mancarono le occasioni? No, peggio, mi mancò il coraggio, la capacità di rischiare e di farmi avanti senza la certezza di un sì. Tornassi indietro, a quelle estati fra le montagne e i laghi del Trentino, o a quelle passeggiate milanesi, cambierei e mi lancerei. Ma i sé e i ma non cambiano la vita, purtroppo. Lezioni che comunque mi sono servite. Quanto meno a capire che bisogna mettersi in gioco sempre, in amore come in politica, per evitare che siano gli altri a scegliere per te. Lo racconto a Federico e Mirta, i figli che amo più della mia vita, a cui cerco di offrire serenità, affetto ed esempio insegnando che solo la fatica, l'impegno e il lavoro duro possono farti raggiungere i tuoi obiettivi. Certo, anche la fortuna può aiutare, ma non si può fare affidamento solo su quella. Nel mio lavoro, come in tutte le altre professioni del mondo, sono fondamentali l'impegno, la programmazione e il gioco di squadra. Vale per un chirurgo, un insegnante, un imprenditore o un commerciante. Certo, la politica è più esposta, è più rischiosa, da alcuni odiate e contestata, ma comunque necessarie. Il politico, come ogni altro lavoro, puoi farlo bene o male, con dignità o meno, con onestà o meno, cambiando idea o casacca o rimanendo fedele a te stesso. In questo libro voglio accompagnarvi attraverso 30 anni di storia italiana, impegno contrassegnato da vittorie sconfitte, sempre con un faro. Mai tradire la parola data e la fiducia ottenuta. Mettere sempre davanti a tutto e tutti, prima gli italiani, senza compromessi, a costo di pagarla cara, a costo di nemicizie, perfino a costo di finire in galera. Nei prossimi mesi i giudici di Palermo mi dichiareranno colpevole o innocente dopo decine di udienze nell'aula bunker del Lucerdone e solo allora saprò se, alla fine del giudizio, mi si apriranno le porte di casa o le porte di un carcere. Paura? Nessuna. Approfitto di queste pagine per ringraziare i tanti italiani che mi dimostrano il loro sostegno insieme a chi, da lontano e senza interessi di parte, ha affermato che processarmi è un'assurdità. Mi riferisco, ad esempio, a quel genio di Elon Musk. Certo, prima di me a essere perseguitato per anni è stato Silvio Berlusconi. Al Cavaliere il sistema non perdonò mai la discesa in campo nel 1994, che nel 1994 portò alla vittoria del Polo delle Libertà contro il PC-PDS di Achille Occhetto, che si sentiva già padrone dell'Italia, grazie agli effetti di Tangentopoli. L'inchiesta che guarda caso aveva sbaragliato tutti i competitori della sinistra, a cominciare da DC e PSI, ma che tante ombre, tanti errori e tanti morti ha lasciato lungo la strada. Nessuno poteva immaginare che un imprenditore come Berlusconi potesse creare nel giro di pochi mesi un partito, Forza Italia, e promuovere una coalizione vincente con Lega e MSI, scrivendo il primissimo capitolo di una storia incredibile, e che ha tenuto gli eredi del Partito Comunista italiano il più possibile lontani dal potere, nonostante fossero e siano ben radicati nelle redazioni, nelle procure, nelle università e nelle viscere dei palazzi del potere a Roma, come a Bruxelles. Berlusconi ha pagato un prezzo salatissimo, come ripeteva con amarezza, sia in pubblico che in privato, e la Lega non è da meno. Scrivo queste righe mentre in Italia scoppiava lo scandalo dei cosiddetti spioni con tanto di inchiesta affidata alla procura di Perugia. Il sottoscritto, alcuni dei miei familiari e amici, nonché centinaia di donne e uomini della Lega, come migliaia di altri normalissimi cittadini italiani, sarebbero stati spiati e dossierati da servitori infedeli dello Stato, con molteplici incursioni nella vita privata e perfino nei conti correnti, a vantaggio di giornalisti e politici di sinistra. E pazienza se nel giro di qualche anno tutto viene archiviato e dimenticato. Nel frattempo, fango e bugie sulla Lega, sul centrodestra e su persone che questo sistema ammalato aveva individuato come obiettivi neanche fossimo in Corea del Nord o in Venezuela. È un sistema gravissimo che va affiancato ad altri scandali. Penso all'allora capo dell'ANM, Luca Palamara, che al telefono con un altro magistrato diceva Salvini ha ragione, ma va attaccato. Penso al processo di Palermo, dove la sinistra, compreso Renzi, che pure sulla giustizia è spesso d'accordo con me, mi ha mandato davanti ai giudici perché ho difeso i confini italiani come avevo promesso in campagna elettorale. Penso ai giudici schierati contro la Lega, come quella dottoressa di Catania che scendeva in piazza con l'estrema sinistra e sui social insultava il sottoscritto, salvo esprimersi su temi legati all'immigrazione. Penso alla forzatura sui 49 milioni che la Lega deve restituire allo Stato dopo gli errori di qualche amministratore infedele. La stessa cosa è successa alla Margherita PD di Francesco Rutelli, peraltro per cifre superiori a quelle contestate alla Lega senza che a sinistra abbiano avuto problemi come noi. Sorvolo su altre questioni finite in nulla, dal linciaggio a Regione Lombardia durante il Covid ad altre inchieste fantasiose come quella sui fondi russi. Se pensate che stia facendo del vittimismo, sbagliate. Sto scattando una fotografia lucida di una realtà inaccettabile ma che mi rende ancora più determinato. La Lega dà fastidio al sistema. Perché rappresentiamo la forza politica che con determinazione da decenni vuole cambiare l'Italia e l'Europa e ha dimostrato di resistere a tutto e a tutti, attraverso dolorose sconfitte e celebrando grandi vittorie con errori e con successi. Ma sempre fedele a se stessa, a costo di remare controvento, pur di aiutare i cittadini a non arrendersi, a non mollare. Lo dico a voce alta, soprattutto adesso con l'autonomia vicina più di quanto sia mai accaduto in passato e con il cambiamento dell'Europa portata di mano in vista delle elezioni di giugno. Se avessi voluto una vita comoda avrei dovuto nascere di sinistra e far politica a sinistra. Ho scelto diversamente, senza rimpianti, e per questo voglio raccontarmi in questo libro. La vita è ciò che fai e che ci metti dentro, cantava nel 1986 Mark Hollis. Sono trascorsi oltre dieci anni dalla mia elezione a segretario federale della Lega e otto dal mio primo libro, Secondo Matteo, dove sulla copertina, al di là dell'innocente e in riverenza del titolo, mi presento col viso più giovane e magro. Pochi, penserete, o tanti. Dipende. In politica, disse negli anni 60 il primo ministro laborista Harold Wilson, una settimana è già un tempo molto lungo. E questi sono stati anni densi, stracarichi di cose successe e mille altre messe in cantiere che chiedevano, invocavano, pretendevano di essere impresse su pagina, ma avevo qualche timore nel mettermi a scrivere. Il mio diario rimane pubblico sempre e comunque, ma la seconda prova, che si parli di libri o di altro, è sempre un'incognita. Ti aspettano al varco e tu per primo hai paura di deludere amici, sodali e interlocutori. Alla fine l'urgenza di raccontare mi ha fatto superare la paura. Mi sono iscritto alla Lega nell'inverno del 1990, quando frequentavo il liceo classico Manzoni di Milano, perché odiavo le ingiustizie, la prepotenza e l'arroganza del potere. Dopo 34 anni ammetto di avere ancora quello spirito di chi ha la voglia di cambiare il mondo a partire dall'Italia. Certo, dopo decenni ci sta che qualche disillusione si affacci, ma in me continuano a prevalere la fiducia, l'ottimismo, la determinazione e l'indisponibilità ad arrendermi. Faccio un lavoro che amo e questa è una grande fortuna. In queste pagine vorrei accompagnarvi, anzi farmi accompagnare da voi, non solo in un trentennio di vittorie e di sconfitte, di gioie e delusioni, di cadute e di ripartenze, ma soprattutto vorrei che guardassimo al futuro e scegliessimo insieme tra immobilismo e cambiamento, tra rassegnazione ed entusiasmo, fra comode scorciatoie e sentieri, magari più difficili ma che alla fine ci porteranno dove desideriamo, ovvero in un'Italia migliore per i nostri figli. Io ne ho due, Federico e Mirta, sono la gioia della mia vita. A loro ho cercato di dare amore ed esempio, ma in questi anni troppo spesso ho tolto tempo, il bene più prezioso che ci ha regalato il buon Dio. Un dono che pensiamo infinito, ma non è così. Ecco, il tempo che dedicherete a leggere queste pagine per me è prezioso, quindi cercherò di non essere noioso, banale o finto. Non servirebbe né a me né a voi. Essere vero e diretto è un mio pregio, secondo alcuni, è un mio difetto per molti altri. La domanda è, possiamo sperare di lasciare ai nostri figli un'Italia e un pianeta migliori di quelli che ci hanno lasciato i nostri padri? Possiamo lasciare loro speranza e non solo ansia? Serenità economica e sociale, non solo debiti? Gioia di vivere e non dipendenze? Io dico di sì, nonostante per qualcuno, soprattutto nei posti che contano, l'interesse sia ben diverso. Vantaggio di pochi o pochissimi a spese di molti o moltissimi. Il 5% delle famiglie italiane più facoltose possiede circa il 46% della ricchezza netta totale. L'ho fatto emergere un'analisi di Banca Italia che ha aggiunto un altro aspetto preoccupante. Il nostro paese è sotto la media UE per la concentrazione della ricchezza. E Francia e Germania non sono messe meglio a dimostrazione che il problema è europeo. A Berlino le disuguaglianze sono superiori a quelle che ci sono a Roma. Non è complottismo, è realismo. Pochi ricchi al mondo decidono e indirizzano il futuro di miliardi di persone, costruendo desideri e dipendenza, alimentando conflitti e tensioni. Penso ad esempio a un soggetto come George Soros, ai suoi miliardi, ai molteplici legami e interessi della sua Open Society Foundation, alle sue iniziative per danneggiare l'Occidente, i suoi valori, la sua identità e la sua libertà. Con i soldi si possono orientare tante coscienze, non le nostre. Può un politico italiano, un ministro, un vicepremier cercare di immaginare prima e di comporre poi una realtà e un futuro diversi? Senza miliardi, senza controllare sistemi informativi, senza troppe simpatie nei tribunali, nelle redazioni e nei palazzi europei del politicamente corretto? Sì, insieme si può volere e potere. Otto anni. Sono passati otto anni, dicevamo, dal mio primo libro. Una breve eternità, perdonatelo Simoro, per chi abbia aderito totalmente alla missione della politica. E se ripenso alle circostanze in cui venisse fuori quel primo tentativo, ancora mi tremano le ginocchia. Eravamo pieni di speranze e di voglia di fare. Imperava Matteo Renzi, aumentavano sbarchi e problemi economici degli italiani, la Lega era all'opposizione e lavorava spesso da sola per mandare a casa un governo che sembrava imbattibile. Infatti, negli anni a seguire abbiamo trasformato in realtà la flat tax al 15% per milioni di lavoratrici e lavoratori autonomi, abbiamo liberato centinaia di migliaia di italiani dalle catene della legge Fornero grazie a quota 100, abbiamo bloccato sbarchi e sbloccato cantieri. Questo per me significa fare politica, trasformare il consenso in forza per cambiare in meglio la vita delle persone, dai banchi di scuola agli anni da dedicare ai nipoti. Già ai tempi del liceo, durante le prime riunioni contestate o addirittura assediate da fanatici di sinistra, avevo capito che politica è passione e spesso sacrificio. Difficile fare questo mestiere a mezzo servizio. Part-time lover cantava Stevie Wonder. Se non funziona nei sentimenti non puoi fare neanche il politico a scartamento ridotto. Se lo fai bene, con tutto te stesso, il tempo non basta mai e oggi il tempo è il bene più prezioso che esista. L'unica cosa da difendere con l'anima è i denti. La mia famiglia e i miei cari ne sanno qualcosa. Non è stato sempre possibile esserci con loro e non lo sarà in futuro. Su questo so bene di essere manchevole. Potrei vantarmi sia stato facile o non mi abbia pesato rinunciare a vedere più spesso i miei figli stando due ore in più con mia madre. Ma mentirei. Però, se non ho mai mollato anche nei momenti difficili, è grazie a loro. Alle persone che amo, a quanti attraverso il mio stesso sogno confidano di vivere in un paese migliore. Lo devo ai miei figli. Sono le gioie più grandi che il buon Dio e la vita mi hanno fino ad oggi concesso e per loro sarei disposto a fare e sacrificare tutto. Federico, ventun'anni di gentilezza, generosità, buonsenso, impegno, successo scolastico e domenica a San Siro, come quando da bambino la guardavo con papà. Mirta, undici anni di baci, di riflessioni, di giochi, di bei voti a scuola, di Harry Potter e di picnic sul fiume. Il senso di ogni cosa che c'è. Davide sconfigge Golia una volta su mille. E mica usa il bazooka, ma una fionda. E che ci dice che noi, tutti insieme, non potremo essere protagonisti nei prossimi mesi di questa volta su mille? Queste pagine sono scritte, pensate e tagliate per i Davide. Donne e uomini che non si arrendono, che non si rassegnano, non passano la vita a commentare la vita degli altri, ma vivono e costruiscono il futuro. Lo costruiscono non da osservatori o sudditi lamentosi, ma da protagonisti, magari senza grandi mezzi economici e fisici, ma con volontà e coraggio, che sono in realtà i mezzi più potenti che conosco. Liberi di pensare, parlare e vivere. Il bavaglio del politicamente corretto. Quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. Firmato Charles Bukowski. Lo stupidamente corretto. Giorni fa alcuni ragazzi e ragazze, che potevano essere coetanei di Federico, mio figlio, fresco di maggior età, mi hanno chiesto, ok Matteo, tu che hai 30 anni di più di noi e sei nato quando giravano ancora i dischi in vinile, c'erano i Beatles ed era ancora più o meno intatto il muro di Berlino. Quali pensi che siano i veri nostri problemi oggi? Ma cerca stavolta di essere sintetico e di non fare elenchi. La domanda era troppo generica per essere provocatoria, del resto le espressioni sembravano sincere e preoccupate. Ho pensato, tra le altre cose, alla difficoltà di entrare nel mercato del lavoro e di mettere su casa e famiglia. Poi al fatto che tutti i ragazzi siano perennemente sprofondati nello smartphone avendo perso il piacere dell'indugio, della contemplazione e diciamo pure quella meravigliosa facoltà dell'attenzione che ci ha fatto crescere come siamo. Guardare un cielo, anche perdersi per strada o negli occhi della persona che si ama. Ho pensato ancora al nostro narcisismo di ritorno che ci inchioda, tra social, vecchi e nuovi, a una puerile presentazione del nostro volto e della nostra persona. Tu chiamala, se vuoi, insicurezza, paura di crescere o di volare. Insomma, la discussione avrebbe rischiato di tracimare, di farci far tardi. Ma tornato a casa, rivoltandomi nel letto e non riuscendo a prendere sonno, ho buttato giù qualche appunto, spero sensato, sul fatto che, giovani, meno giovani e anziani, dobbiamo tutti confrontarci con un problema relativamente nuovo che in questi ultimi anni a mano a mano è diventato sempre più grave. La questione del politicamente corretto, che a me pare manifestazione potente dell'ipocrisia umana è in definitiva, lasciatemelo dire, una forma particolarmente aggressiva e virulenta di stupidità. Avete presente quelle macchie che non vanno più via dalla maglia e che anzi tendono ad allargarsi quando proviamo a lavarle? E l'immagine non è neanche originale, visto che uno scrittore come l'americano Philip Roth, sul politicamente corretto e sul perbenismo ci ha costruito ormai quasi un quarto di secolo fa un romanzo dal titolo preciso e altamente metaforico, La macchia umana. Ricordate anche il film? Anthony Hopkins, Ed Harris e una sempre splendida Nicole Kidman. Grandi attori come se ne vedono pochi. E la sensazione è che il perbenismo stia all'essere persone perbene come il sentimentalismo sta ai sentimenti, cose da non confondere, cose che non vanno insieme. Mentre ci sono cose che non si possono o si devono discutere, valori eterni e immutabili. E nella mia vita ho capito che per i cittadini questi valori sono il rispetto, l'onestà e la libertà. Uso spesso questi termini e sinceramente non mi sono mai vergognato di farlo. Ma non tutte le parole hanno questo privilegio di essere, come dire, dentro il tempo e insieme fuori del tempo. La scelta di vannacci. Divisivo. Oggi è una parola che si usa molto, ma che io non amo. Tutto è divisivo. E uno, prima di parlare, di ridere o di piangere, deve sempre avere paura di riuscire divisivo. Avete notato che non c'è più la possibilità di parlare, di esprimere le proprie opinioni, di dire come, di dire le cose come stanno? Vi siete accorti che ci stanno costringendo a scrivere e a nasconderci dietro perifrasi ridicole che offendono e deprimono, piuttosto che esaltare e specificare bene la natura delle cose? Nei mesi scorsi un generale dell'esercito come Roberto Vannacci è stato travolto da fango e critiche per il suo libro, Il mondo al contrario, in cui esprimeva opinioni sgradite al conformismo del politicamente corretto. Il militare è stato infangato, linciato, dileggiato. E pazienza se il suo libro ha venduto più di autori chic che poi danno lezioni sui giornali e in tv. Aggiungo per chiarezza. Non condivido tutte le riflessioni di Vannacci, ma difendo strenuamente il diritto di esprimere delle idee. Anzi, la comune battaglia a difesa dell'Italia, della sicurezza e delle libertà ci ha portato a condividere, per i prossimi anni, l'impegno a cambiare questa Europa con la candidatura nelle liste della Lega. Si tratta di un uomo dello Stato che ha difeso gli interessi nazionali in decine di missioni all'estero, dalla Somalia all'Afghanistan, dal Rwanda all'Iraq, dai Balcani alla Libia, salvando vite umane. J.K. Rowling e Ricky Gervais. Inni alla libertà. Ora mi chiedo, perché la scrittrice scozzese di Harry Potter, che ha tirato fuori dal cappello quello che è l'ultimo gioco di prestigio della letteratura europea, un capolavoro non solo per ragazzi, avvicinando milioni di giovani lettori ai libri, perché, dicevo, la povera J.K. Rowling deve essere crocifissa e accusata di transfobia per aver manifestato delle sue personali opinioni, in larga parte sensate, peraltro il nuovo premier scozzese di fede islamica ha voluto e ha approvato una norma liberticida che comprime fortemente il diritto di pensiero, di parola, addirittura imponendo il divieto di distinguere tra uomo e donna, una follia contro la quale la coraggiosa madre, si potrà dire madre, di Harry Potter ha risposto Man is a man, l'uomo è un uomo. Oppure ancora ve lo immaginate che succederebbe se in Italia capitassimo negli spettacoli certamente non proprio politicamente corretti di Ricky Gervais, di cui mi sono divorato tutte le performance applaudite nel mondo? Un Ricky Gervais show non lo trasmetterebbero sulle cosiddette reti generaliste neanche a 100 km dalla fascia protetta. E potremmo anche ricordare i grandi della commedia italiana di ieri, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto. Oggi finirebbero nei guai e verrebbero oscurati, se non processati. Aggiungo allargando il concetto, perché dovremmo dimenticare il nostro humus civile e culturale? Le nostre radici pretendono cura e rispetto in pari misura di quella che ci verrebbe chiesta in altri paesi, per esempio islamici. Ho scritto chiesta, ma sarebbe meglio dire imposta. Lo possono confermare alcuni dei calciatori che hanno scelto i soldi degli arabi ma si stanno pentendo perché non hanno la libertà garantita dalla società occidentale. Disapprovo ciò che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo. Abbiamo lasciato fuori dalla porta il senso di questa frase che pure restituisce brillantemente il senso e il valore della tolleranza che è uno dei cardini dell'illuminismo. Parlo di quella tolleranza e soprattutto del rispetto per la storia e dei valori della cultura che, anche se non corrispondono più ai nostri valori, pure di quella cultura fanno parte. Ne sono elemento costitutivo essenziale e dunque occorre rispettarli subito dopo averli debitamente storicizzati. Eliminare i riferimenti politicamente scorretti nei classici di Walt Disney, senza i quali la nostra vita sarebbe senz'altro un poco più grigia, significa andare a toccare alcune tra le grandi opere d'arte della nostra modernità, da Biancaneve alla Bella e la Bestia. Fino a quel lungometraggio, Steamboat Willie, del 1928, capolavoro degli esordi Disney dove Topolino, nei panni di un mozzo, usa gli animali come strumenti musicali. Ma di questo passo tutti i cartoni animati, americani, europei o giapponesi, potrebbero essere tacciati di maltrattamenti sugli animali. Di questo passo censuriamo un classico come Via col vento del 1939, lo hanno già fatto ridoppiandolo, e i capolavori di Mark Twain. Joseph Conrad, il negro del narciso, il nero semmai. E se tanto mi da tanto, che ne facciamo dei teneri innocentissimi batussi, che i nostri genitori hanno ballato a lungo inserendo la monatina nel jukebox o con il 45 giri? Censuriamoli o meglio depuriamoli. Nel continente nero, alle falde del Chilimangiaro, ci sta un popolo, ma il caro Vianello è in buonissima compagnia. Con lui c'è uno scrittore come Miller, più di tre quarti di Tropico del Cancro oggi non passerebbe alla dogana del politicamente corretto. Oggi tutto si censura, tutto si banna. Come finirebbe Vasco Rossi oggi con la sua colpa ad Alfredo che parla di un negro che gli ha soffiato una troia? Stiamo realmente tornando ai tempi della controriforma. Ma allora almeno si aspettò la morte di Michelangelo per affidare a un pittore, Daniele da Volterra, il molto e poco onorevole compito di mettere le braghe ai nudi del giudizio universale sulla parete di fondo della Cappella Sistina. Altri tempi direte voi. No, a te sono questi tempi. Vivi libero o muori. Stanno provando a imporci come vivere, come viaggiare, come pensare. Il che vuol dire che stanno cercando di limitare la libertà di pensiero. Come difendersi? Informandosi, leggendo, studiando, opponendosi, con la forza di chi va contro vento. Io non so se sia vero, come dicono, che i ragazzi oggi leggono poco. Secondo me non hanno mai letto o scritto tanto come oggi. A me, per fortuna e per educazione familiare, un libro a portata di mano non è mai mancato. E oggi, potendo, mi piacerebbe leggere di più come quando ero adolescente o almeno più giovane. Invece le giornate sembrano sempre o troppo corte o troppo lunghe. Sono molti i libri che mi porto dietro nella testa, ma forse, se dovessi dirne uno, innanzitutto Oriana Fallaci. Un uomo del 1979, la storia di Alekos Panagoulis. Uno di quei libri che ti accompagnano come un mentore, un mentore o un destino. Ricordate? Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per la propria dignità. Fine della citazione. Ecco, anche questo era e rimane Oriana. Poi, per avvicinarci ai nostri anni, direi Storia di neve di Mauro Corona, che Mauro Corona ha scritto dopo i 50 anni. Un gran racconto poetico e visionario, ma con i piedi per terra, come ci si aspetta da un uomo delle nostre terre. Aggiungerei La masseria delle allodole di Antonia Arslan, uscito giusto vent'anni fa. Un volume che tratta, come molti di noi ricorderanno, di un massacro dimenticato, il genocidio degli armeni. Si dice spesso che oggi i ragazzi non conoscano la storia contemporanea. Bene, questo è un resoconto da gelare il sangue. Certo, se qualcuno dei millennial, chiamiamoli così anche noi, mi chiedesse uno o due titoli su cui fare un poco di ginnastica di intelligenza e manutenzione delle idee, io non avrei dubbi. Vi metterei in mano George Orwell. Un libro che suggerirei caldamente al primo anno di liceo, a tutti, è 1984. Un capolavoro pubblicato nel 1949, insieme, certo, alla Fattoria degli Animali. Qui si parla già di controllo, di psicopolizia. Sembra già di vedere in anticipo scenari nei quali, se non stiamo attenti, finiremo per precipitare. La censura è terribile, devastante, mortifera. Ricordate i roghi nazisti dei libri nelle piazze? O vogliamo parlare del KGB sovietico. A me pare che noi della Lega siamo tra i pochi che continuiamo a dire, con convinzione, anzi a gridare, che la libertà di pensiero va tutelata a tutti i costi. Mi ha colpito il fatto che dal 1945 il motto del New Hampshire, dove Trump ha vinto il primo turno delle primarie, sia, live free or die, vivi libero o muori. Molto bene questo è tutto, fatemi sapere se questo estratto vi ha incuriosito e se leggerete il libro. Come sempre vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Alla prossima!